Fabio Aquilini, alle ultime elezioni il candidato sindaco per Italia del rispetto al ballottaggio con Toriani ha appoggiato Carlo Barbieri ottenendo in cambio la promessa che il Comune avrebbe iniziato i lavori per la realizzazione di un cimitero per gli animali a partire dal prossimo autunno. Tu saresti contento se venisse realizzato oppure credi che in un periodo di spending review il Comune di Voghera dovrebbe investire le proprie risorse su altro? Bella domanda, no io sarei a favore anche perché amo gli animali, io ho animali quindi sarebbe una cosa carina anche per ricordarli dopo la dipartita diciamo. Il fatto che ci siano cose più importanti da realizzare sì è vero quindi non lo metterei diciamo in cima alla lista ma sicuramente da fare nelle prime cinque. Beh credo che l'iniziativa proposta dal sindaco è stata proposta. Fabio Aquilini si è ex candidato sindaco però è in accordo con Carlo Barbieri attuale sindaco di Voghera. Beh credo che sia comunque una proposta interessante anche nuova però comunque con i tempi che corrono sarebbe più giusto e più consono investire il denaro in altre attività. Quindi tu dici favorevole però non è una priorità del Comune insomma? In questo periodo secondo me no. Penso che sarebbe una bellissima idea però forse ci sono delle altre priorità in questo momento a Voghera. Quindi è un po' l'idea di tutti alla fine quelle che abbiamo ascoltato anche prima cioè sì è una bella idea però anche se non si realizza subito ma si dà la priorità ad altro è meglio perché c'è bisogno di altro. Sì bisognerebbe valutare quanto potrebbe costare perché comunque sarebbe bello che anche i nostri amici a quattro zampe avessero un luogo dove riposare perché è spesso un problema no? Dove poter fargli riposare fargli riposare smaltire non è bello quindi sarebbe una bellissima idea se ci fosse qualche risorsa ottimo insomma. Tu credi che se dovesse essere realizzato dopo l'estate ci sarebbero delle grosse polemiche? Ma le polemiche ci sarebbero sicuramente perché c'è sempre qualche altra priorità però anche secondo me ci sarebbero anche tanti pareri favorevoli.